L'allarme sui soldi che non arrivano al Teatro Marruccino, impegnato nei festeggiamenti per il bicentenario, con contratti ancora da firmare per concludere le manifestazioni previste, è stato raccolto dal consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo, che è anche presidente della Commissione di Vigilanza della Regione Abruzzo. Da lui sono arrivate le assicurazioni per quanto riguarda il contributo straordinario di 200.000 euro per il bicentenario e la quota di 300.000 euro per l'annata 2017. Sono entrambe incluse queste cifre nel bilancio. L'assessore Silvio Paolucci, già contattato, si attiverà per far sì che le somme arrivino effettivamente nelle casse del teatro, nei tempi più brevi possibile. Tutto da vedere invece per quanto riguarda il contributo per l'annualità 2018, di cui non c'è traccia nel bilancio regionale. Sarà oggetto di confronto con i responsabili del settore cultura per arrivare al rispetto dei patti e dei diritti che appartengono ad un teatro che è un vanto, come ci tiene a specificare lo stesso Mauro Febbo, non solo di Chiti, ma dell'intero Abruzzo, per tradizione e qualità dell'offerta.